Ottima partita del gruppo Goodfellas, sviluppata quest'oggi all'Honey, in presenza del Special Quest David, l'organizzatore di questa serata, è un piacere averla con noi oggi, vieni David. Grazie mille, è un piacere essere ospitato qui, ti ha salvato le case? Io sono Nicolò Honey, no non è vero, sono l'allinatore del gruppo Goodfellas, oggi è stata una partita, posso dire, non divertente, perché i ragazzi non si sono divertiti, è stata una partita un po' senza unica, ci siamo fatti un po' di punteggio, è stata una partita comoda. Sì, no, ci rispia che infatti oggi non è stata una sola partita, plagellato dalle assenze, quella prima addirittura manco si è disputata, perché si è fatti un po' di punteggio, ma il gruppo è lo stesso dell'anno scorso. Il gruppo è lo stesso dell'anno scorso, è cambiato qualche personaggio, abbiamo tolto qualche punto, forse più forte, ma meno affinizzante, che poi conoscete l'interno. Sì, quindi abbiamo cercato di fare più gruppo, più trovare un baricentro equilibrato e una forza sia tattica che, appunto, corporea. Cerchiamo di bilanciare, ecco, con tutti quanti i nostri calciatori, da come stiamo vedendo vorrebbe essere l'ottimo piano. Sì, anche perché poi è stato diventato uno delle squadre da bastare, in assenza poi di tutte le altre veterane, voi eravate a numero 4, L'anno scorso siamo usciti appunto con quell'altra squadra forte, esatto, che è un'ottima squadra, anche lì con molta esperienza, con un gruppo molto affiatato, infatti se ci stanno guardando li saluto, è stata anche quella lì una grande partita, posso dirlo, e adesso speriamo di fare grandi partiti avanti. Grazie, grazie Dave, è stato un piacere. Grazie ragazzi, alla prossima partita.